Cosa può succedere ad un agente dell'FBI che improvvisamente deve gestire una notorietà esagerata e imbarazzante e salvare la vita alla sua più cara amica? Sandra Bullock è Miss FBI Infiltrata Speciale lunedì alle 21.20 su Canale 5 Non mi piace farlo, la uso solo in caso di autodifesa o quando ci sono i saldi